Come on everybody, one picture for the children, take the picture and then help us, one coin to help us with the children, una foto, un sesterzio per i bambini dell'IME. Deborah, Deborah, di là, di là, di là, corri, corri, vai, 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 vai. Una volta cacciati i centurioni abusivi davanti al Colosseo, subentrano i centurioni a fine benefico, che chiedono un sesterzio per donare sangue per i bambini. Ecco, Croce Rossa, vigili. Il Colosseo langue dei finti centurioni, o di quelli della protesta che se ne sono andati, e subentra l'organizzazione dei veri centurioni, che sono anche molto più belli in effetti. C'è un meraviglioso uomo peloso, ricoperto di una pelle d'orso. Ecco, questi sono i veri centurioni, quelli che a fine benefico raccolgono i giapponesi, non capiscono la differenza, loro fotografano tutto. Questo è anche Poliglotta, vedete? L'orso peloso, il centurione peloso sta spiegando il fine benefico di questa raccolta. E oggi è qui con l'IME, che è l'istituto mediterraneo di ematologia e la Croce Rossa italiana. Quindi è a fine venezia qua. Perché stiamo raccogliendo sangue di là e soldi di qua, vede c'è la Croce Rossa di là. Ah, ecco. Di là stiamo raccogliendo il sangue, con i donatori, che vanno per i bambini dell'IME di Tor Vergata. E di qua invece stiamo facendo la raccolta fondi per le famiglie, perché molti sono bambini stranieri, e quindi ci sono le case famiglia che ospitano la famiglia durante le operazioni. Ma voi siete sempre esistiti, anche prima degli altri? Centurioni voi, questi veri? Siamo un'associazione che esiste da dieci anni sul territorio, ma facciamo rievocazione storica. La settimana prossima saremo qui al centro storico per il Natale di Roma. Grazie. Prego. Grazie.